Parliamo dell'attività di accompagnamento al lavoro, in cosa consiste? Il servizio educativo al lavoro Premetto nasce nel 2010 per rispondere ai bisogni lavorativi di giovani e adulti disoccupati in condizione di fragilità sociale e personale. Una delle caratteristiche centrali del nostro servizio è che lavora in collaborazione con il pubblico, con tutti i servizi sociali di tutti i comuni della provincia di Lecco. Hanno fatto una scelta di investire risorse per provare a rispondere ai bisogni lavorativi dei loro cittadini. Il nostro servizio è un gruppo di 12 persone e offriamo percorsi di accompagnamento al lavoro individualizzati, esperienze di tirocinio in aziende del territorio e percorsi di accompagnamento e di formazione alla ricerca attiva del lavoro. Una delle caratteristiche che ci contraddistingue, lo dice anche il nome, che è appunto Servizio Educativo al Lavoro, è il fatto che questi percorsi di accompagnamento vogliono sollecitare nella persona adulta la ripresa di un progetto di vita, il prendersi carico delle proprie responsabilità per affrontare le sfide che la vita adulta impone. I partner speciali del nostro servizio, non voglio dimenticarlo, sono anche le aziende che in questi anni hanno collaborato con un forte senso di responsabilità. Abbiamo una banca dati di collaborazione che supera le 500 aziende del territorio e che in questi anni hanno offerto, oltre a contesti di lavoro, quindi possibilità di contratti per le persone che seguiamo, che abbiamo in carico, hanno offerto percorsi di tirocinio, hanno soprattutto condiviso, ripeto, con un forte senso di responsabilità sociale, un progetto di accompagnamento individuale mettendo a disposizione anche risorse aziendali. Il servizio educativo al lavoro accoglie annualmente e accompagna nei loro diversi percorsi individuali circa 1200 persone, tutte con storie individuali che necessitano quindi di accompagnamenti specifici e molto personalizzati.